Si chiama Sawyer Palmer, è una giovane ragazza 20enne che pensato ha deciso di abbandonare la vita da falegname, quale effettivamente parlando era, infatti da quando ha 14 anni faceva la falegname, aveva a che fare con il legno, ha abbandonato dunque gli attrezzi del mestiere del lavoro e è arrivata nella finale ad un concorso di bellezza. Sfidare è molto faticoso, però ha deciso di cambiare vita. È già una madre di famiglia, per sbaccare il lunario ha lavorato in falegnameria, al tempo stesso però ha deciso di utilizzare il denaro conquistato grazie al fatto di avere questa falegnameria partecipando a Miss Inilterra. È arrivata in finale grazie alla sua bellezza, grazie al suo fascino, grazie alla sua grande sensualità. Non è passata inosservata, è sfoggiato degli abiti molto sexy e intriganti, è sfilata su tacchi vertiginosi, mini ingonne, spasserelle prestigiose e pregiate di tutto il mondo. È anche attivissima nei social media dove il primo fra tutti Instagram ha una marea di seguaci che regolano un grande bene. Dal vostro narratore italiano di Youtube Italia è tutto, iscrivetevi, seguitevi e commentate. Caro Fiatone a voi e a prossimo video, grazie a tutti.